Il Papa sta passando proprio davanti a noi, non ha fretta, l'abbiamo visto anche prima, sentite l'entusiasmo delle persone. Salutiamo anche noi il Papa, ci sta salutando, Santo Padre. È stato coraggioso lei con quel programma. Santo Padre, io la ringrazio, ci siamo visti in Bangladesh, ci rivediamo nel cuore di Roma. Ma quel programma è stato ben valutato, grazie. Grazie a lei, Santo Padre. Abbiamo la fortuna di seguirla in giro per il mondo e anche qui a Roma oggi la ringraziamo. Grazie. Il Papa ci ha salutato, siamo un po', insomma, potete immaginare imbarazzati, ma il riferimento era l'incontro che ci era stato proprio sette giorni fa, venerdì scorso in Bangladesh, quando il Papa ha incontrato quella delegazione del popolo Rohingya nel viaggio appunto in Asia e poi avevamo avuto l'occasione di salutare da vicino quelle persone che avevano ringraziato anche in quell'occasione il Papa che aveva chiesto perdono, perdono per quello che stavano passando.